Si costituirà parte civile il comune di Cadoneghe nel processo che inizierà il 4 marzo a carico di due agenti della polizia locale coinvolti nella vicenda dei Velox, posizionati lungo la strada del Santo e duramente contestati da molti cittadini, multati a ripetizione, a loro dire ingiustamente. Il sindaco Marco Schiesaro ha anticipato che sarà presente in aula e che chiederà un risarcimento d'anni per l'immagine del comune e di se stesso compromesse dalla vicenda. Il sindaco sottolinea che tutta la questione giudiziaria è partita da una sua segnalazione ai magistrati e che quindi si considera parte lesa in tutta la vicenda, che tra giugno e agosto dello scorso anno, dall'attivazione allo spegnimento dei Velox, peraltro danneggiati dai gnoti, è finita in primo piano in tutta Italia per molte settimane.